Tra vedute e visioni, è questo il titolo della mostra personale dell'artista Chiara Cascione che è stata inaugurata al Palazzo di Fraternità d'Arezzo, una serie di dipinti che rappresentano alcuni dei panorami e degli scorci più belli di Napoli che si inseriscono nella corrente artistica del vedutismo. Un filone interessantissimo della storia dell'arte che nasce alla seconda metà del 600 a Roma con Van Vittel, padre, e si sviluppa nel 700 e l'idea è nata per due motivazioni. Uno perché in Fraternità hanno lavorato vedutisti autoctoni, locali come i Conti, i Metrodoro Conti in modo particolare e quindi per noi è un tema caro e due perché ci piaceva proiettare il vedutismo al futuro nel senso che nell'arte contemporanea questi filoni storicizzati, consolidati appunto nella storia, non sono morti ma possono anzi non solo vivere in piena salute ma anche avere un futuro, un futuro evolutivo. E quindi Chiara Cascione, Chiara Cascione è un'artista a viso mio e convedendo anche con l'intero magistrato, un'artista che meritava una mostra in Fraternità, un'artista napoletana che porta avanti un filone sicuramente materico, figurativo materico e che rende la veduta una sorta di visione fantastica ma non troppo arrivando fino alla materizzazione totale della veduta. La mostra sarà visitabile fino alla prima settimana di settembre. Io ringrazio la dottoressa Fornasari per questa opportunità, diciamo che per me è stata un'esperienza nuova questa del vedutismo che è nata proprio in collaborazione con l'Iletta nel senso che precedentemente diciamo che mi ero dedicata ad altri tipi di quadri di figurativismi e con questa mostra ho potuto riscoprire anche dei luoghi a me cari di Napoli e anche sperimentare nuove tecniche. Per esempio i quadri sono fatti con stucco, carta e con pittura acrilica, tanto da formare delle figure in 3D che vogliono essere appunto quella che per la dottoressa Fornasari è il vedutismo del futuro. Sono molto contenta di aver avuto questa opportunità ovviamente e spero che si ripeta in futuro perché già l'anno scorso a Cortona fu una bellissima esperienza e questa da Rezzo devo dire la verità mi rende veramente molto felice.